I tempi non sono facili, lo sappiamo. Molte cose a causa dell'emergenza virus ci vengono impedite, sottratte. È anche un periodo di setacciamento, di vaglio. Ci è dato di sapere, anche per la ricaduta di sofferenza sul cuore, ciò a cui è più facile rinunciare perché secondario e ininfluente, e ciò a cui invece realmente teniamo perché vitale. Tra queste ultime cose sicuramente per noi credenti la più dolorosa è l'impossibilità a partecipare alle Eucaristie quotidiane festive. Abbiamo tuttavia una certezza inossidabile. L'Eucaristia, anche se celebrata a porte chiuse nella solitudine, mantiene e sprigiona tutta la sua forza salvifica. Quest'anno non sarà possibile celebrarli. Per cui a nome di tutti ringrazio, anche perché ci permette di non smarrirne la memoria, Teleimperia per la trasmissione documentalistica che offrirà della calata del 2018.